Ciao amici di BD Media, facciamo il punto della situazione della settimana politica. Dopo la cattura del boss ad inizio gennaio, si sono scatenate le polemiche sulle affermazioni del ministro della giustizia a Nordio, in merito alla sua proposta di riforma di utilizzo dello strumento delle intercettazioni. Lo scontro sul tema ha preso forma in particolar modo dopo le parole del procuratore antimafia di Palermo, De Lucia, che ha definito le intercettazioni come strumento indispensabile e irrinunciabile per il contrasto alla criminalità organizzata. Il ministro è intervenuto in aula il 19 gennaio per chiarire che le intercettazioni non sarebbero state toccate in tema di mafia, terrorismo e per tutti quei reati definiti satelliti, e che l'intenzione del governo è quella di intervenire sui fenomeni di abuso delle stesse. Inoltre, in tema di politica estera, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata in Libia per la chiusura di un accordo da 8 miliardi, per aumentare la produzione di gas a favore del mercato interno libico e la conseguente esportazione in Europa, e per supportare la Libia con 5 imbarcazioni attrezzate per il soccorso di migranti in mare.